Dal 2006 al 2010 in Italia almeno 554 donne uccise, nell'80% dei casi da uomini familiari, da uomini conosciuti. Nel 2011 in Italia 17 donne uccise fino a oggi. Basta! Nel 2010 in Italia 115 femminicidi almeno fino al 24 novembre per contrasti di genere. Nel 2009 in Italia 119 donne uccise per aver detto no. Nel 2008 in Italia 112 donne uccise in contese sentimentali. Nel 2007 in Italia 107 donne uccise per ragioni sessuali. Nel 2006 in Italia 101 donne uccise solo perché donne. Le farfalle volano un giorno solo. Nel 2006 in Italia 101 e una donne uccise solo perché donne. Nel 2007 107 donne uccise per ragioni sessuali. Nel 2008 112 donne uccise in contese sentimentali. Nel 2009 119 donne uccise per aver detto no. Nel 2010 115 femminicidi fino al 24 novembre per contrasti di genere. Nel 2011 17 donne uccise fino a oggi. Basta! Dal 2006 al 2010 in Italia almeno 554 donne uccise nell'80% dei casi da uomini familiari. Le farfalle volano un giorno solo.